Musica Ebbene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la soluzione dell'SBC Icon di Alessandro Del Piero Prime. Iniziamo dicendo che il prezzo si aggira su 750k e ci sono 8 sfide da fare. E detto questo, iniziamo subito. Allora, la prima sfida consiste nell'inserire un'icona. Non è specificata qual'icona, un'icona che si ha. Mentre la seconda sfida che riguarda la Iventus e chiede 4 giocatori della Iventus, valutazione 83, intesa 90 e numero di giocatori in rosa 10. E quindi per questa sfida abbiamo Dzeko, Mandzukic, Quadrado, Kedira, Strottman, Luglas Costa, De Vrij, Manolas, Barzagli e Perin. E si ottiene i valori richiesti. Poi la terza sfida è quella di Sydney, squadra in cui ha giocato Alessandro Del Piero. E si hanno questi giocatori. E chiede un giocatore del Sydney, un giocatore della Hyundai League, estemente 10, valutazione 65, intesa 95 e numero di giocatori 10. E si ottiene i valori precise. Mentre la terza sfida è quella dell'Italia. E chiede 5 giocatori dell'Italia, minimo, valutazione 83, intesa 90 e 10 giocatori. E abbiamo Giovinco, Belotti, Kedira, De Rossi e Bonaventura, Kulibali, De Vrij, Barzagli e Joshua Kimmich e Perin. Andiamo sotto e abbiamo rosa con valutazione 84. E abbiamo, chiede 4 campionati, minimo, massimo 6 giocatori dello stesso campionato, valutazione 84, intesa 75 e 11 giocatori. E in questo modo otteniamo 84 di valutazione e 75 di intesa. Poi abbiamo rosa con valutazione 85+, e ci chiede l'85 di valutazione, intesa 60 e di giocatori rosa 11. E in questo modo otteniamo 85, che è la valutazione richiesta, e 64 di intesa. Poi abbiamo le ultime due sfide, rosa con valutazione 86 e 87. La quella con 86 richiede valutazione 86 e intesa squadra 55. E qui abbiamo Dzeko, Diego Costa, Bruno, Linzinsigne, Berratti, Osil, Merictarian, Pepe, Mustafi, De Vrij e Perin. E infine, chiediamo quella rosa con valutazione 87. Che chiede? Ovviamente la valutazione 87 e 45 di intesa squadra. E qui abbiamo messo Cavani, Oblak, Isco, Draxler, De Olofeo, quando al Barcellona, Bartra, Croce, Glick, Suvasic e Orn. E otteniamo 87 di intesa, e 87 di valutazione scusate, e intesa 58. 13 in più di quella richiesta. E detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video.